te l'ho detto no che non venivi su uno due tre uno due tre vai vai c'è un vuotore mica il secondo no qua non è niente queste due due facette no no c'è un po' di fil di ferro in tasca no c'è pure le facette in tasca non in tasca guarda dove si mettono un manubrio al contrario c'è pure le facette in tasca c'è l'un bel cancello anche te eh lo so hai visto ma tu prova prova eh no no non va ho sentito da come era attelato salire eh Ciri non va Ciri se mi dà sputanasmi il pietro di un bus oh raggiù allora ti che ti ha in mano il tuo merito lì prego la bocchè si è un bel merito prego se sei in giro fa spurtito oh la giagghera sui gommi ha destra atmosfera tu sei grande quel manubrio qui deve andare avanti 10 centimetri eh se sei capitato nel posto giusto se sei capitato nel posto giusto dai allora uno l'ho già ripreso forza che fai anche te il bis almeno siamo a posto la tomba la ripresa ho detto è un pezzo che manca al Ciri non riesco più a fare un video serio gliel'ho detto a lui gli ho detto io di lì non vengo su vengo su dei sassi lì prendi dentro c'è arrivato e preso dentro eh ma perché? perché non sentito